amici fanta allenatori buongiorno bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio oggi affrontiamo un tema importante quello delle aste a busta chiusa tanti amici mi stanno chiedendo di fare un video su questo tema in particolare oggi vado a fare un video dedicato a un'asta 10 senza modificatori difesa in modo che possa essere un esempio di come affrontare l'asta con busta chiusa nella parte iniziale ci sarà appunto un'indicazione di massima quali sono le teorie dell'asta busta chiusa e poi facciamo i nomi anzi alcuni nomi li vedete già in sovraimpressione per l'asta a 10 anche la strategia da utilizzare il caso in oggetto è un fanta 10 buste chiuse 500 crediti l'asta sarà il 9 agosto quindi importantissimo va fatta molto prima della fine del calcio mercato e anche prima della prima giornata di campionato quindi è un po come dire anche un'improvvisazione una scommessa sul futuro non c'è come vi diceva un modificatore difesa che bisognerà acquistare tre portieri otto difensori 800 campisti e sette accanti e prima di iniziare bisogna capire esattamente quale strategia affrontare se fare visto appunto l'asta busta chiusa va pianificata prima dalla partenza quindi bisogna fare in una busta tutti i nomi dei giocatori anche tutti i prezzi quindi ci sono diverse tipologie in un caso si possono mettere prezzi equilibrati tra vari giocatori ma è una cosa che a me non piace molto oppure mettere un super top per reparto e tutti gli altri a un credito oppure fare una strategia un po mista con alcuni crediti bassi e anche alcuni top anche più top reparto magari con anche dei prezzi intermedi e la strategia che preferisco sinceramente e con l'obiettivo dell'asta busta chiusa il fondamento è che più giocatori si prendono tramite la busta chiusa meno probabilità abbiamo poi di andare in asta per altri giocatori in modo che appunto andiamo ad acquistare i giocatori che abbiamo scelto quindi questo è il desiderato in certe volte mi sono trovato avendo sbetto strategia ad acquistare solamente magari 4 5 giocatori con la busta chiusa poi sono andato in grande difficoltà nell'asta poi successiva alla busta chiusa io punterai molto sui giocatori sottovalutati in questo caso prima che appunto si fa l'asta il 9 agosto e si possono prendere anche delle scommesse sicuramente anche un po un credito può essere interessante ma sicuramente i giocatori sottovalutati vanno messi e messi a un credito evitate i giocatori di cui sapete che anche altri avversari vostri apprezzano molto faccio l'esempio classico se avete un tifoso super napoletano super torinista e vuole puntare su osimene o su belotti evitate anche di metto perché qualsiasi prezzo mettiate magari viene superato quindi evitato di occupare uno slot per nulla e andate su altri su altri giocatori sono importantissimi fondamentali gli acquisti di giocatori a 1 anche acquisti di giocatori importanti a mette volte che metta di prendere anche giocatori importanti tosti parlo dell'asta di champions ad esempio dove ho preso una volta messi e una volta ronaldo 1 che è stato dimenticato da tutti quindi il principio dall'asta busta chiusa un po diverso dall'asta di fantacalcio normale se appunto qualcuno si dimentica o tanti giocatori si dimenticano di alcuni nomi potreste andare a fare l'affare magari solo per un credito in questo caso 10 è difficile però magari mettiamo il caso che sui 10 giocatori nessuno metta che ne so osimene e voi lo mettete a 1 lo prendete a 1 quindi l'asta busta chiusa ha un principio fondamentale un po diverso dall'asta normale altro consiglio importante eviterei la cifra tonda quindi eviterei 30 e 50 e 20 10 magari fate 13 12 e 17 22 così almeno sulla cifra tonda magari gli avversari potete batterli occhio al costo totale quando fate l'asta non fatti di fare un foglio di excel se il vostro totale 500 non dovete sforarlo se lo sforate poi diventa un problema per la stessa per la stessa asta quindi utilizzate fogli di excel mettete delle formule e in questo modo siete tranquilli è importante è fondamentale conoscere tutte le proprie di formazioni sia per la formulazione dell'asta in busta chiusa sia poi per la successiva asta quindi è fondamentale questo non cambia nulla dovete conoscere tutte le proprie di formazioni e anche quali sono i giocatori su quali puntare e su quali non puntare capire infine a livello matematico quali giocatori possono rimanere fuori ad esempio in questa lega a 10 mediamente ci sono quattro difensori per squadra per squadra di serie a in totale quindi sono almeno 80 giocatori titolari dei difensori qua bisogna prendere 8 difensori siamo in 10 quindi 80 è il numero uguale quindi di fatto ci saranno tanti giocatori anche i titolari che possono essere presi a un credito non c'è modificatore difesa quindi in questo caso dico che stiamo bassi sulla difesa discorso inverso per quanto riguarda l'attacco in attacco ad esempio ci sono due giocatori mediamente per attacco in serie a quindi in totale sono 40 giocatori invece in questo caso vanno comprate meno 60 giocatori perché sono 6 giocatori per 10 partecipanti e quindi ballano all'incirca una ventina di attaccanti che rimarranno panchinari quindi è importante pianificare bene il prezzo anche in base alla formulazione dell'asta se l'asta fosse stata 6 giocatori sarebbe stato un conto se l'asta fosse stata 12 sarebbe stato un altro conto quindi molto importante anche fare conti a livello matematico prima della formulazione della busta partiamo dunque con i nomi un cappello ancora prima dei nomi mi piace molto fare questo tipo di attività foglio bianco con le celle da compilare quindi 38 86 io prima parto dalla quotazioni metto la squadra e poi metto il nome perché così a me non so esattamente quanto spendo per i singoli slot quindi non so il top di reparto a centrocampo il piazzolino non so 30 crediti la squadra importante quindi può essere uno sono juventus l'atalanta e poi vado a cercare il nome faccio il percorso inverso anziché mettere prima il nome poi i crediti faccio il contrario e secondo me è molto utile per la formulazione dell'asta busta chiusa partiamo dunque con i reparti visto che appunto non serve modificatore difesa sono stato basso sulle percentuali in porta e difesa ho pianificato solo un 3 per cento per la porta e solo un 6 per la difesa mentre ho formulato un budget 30 per cento per il centrocampo e addirittura 61 per cento per l'attacco questo chiaramente per la formulazione della busta in porta ho messo silvestri dell'udinese milinkovic salvici del torino e sirigu del genoa che sono portieri diciamo di metà classifica ma che hanno una fase difensiva importante per loro ho preventivato ciascuno 5 crediti quindi in totale nella busta totale dei portieri ho messo 15 di preventivo per quanto riguarda il budget portieri sulla difesa ho messo a cervi della razza ho messo 8 lui telecudinese quota 3 di lorenzo napoli quota 7 tomori milan quota 5 di marco inter quota 4 sabelli genoa quota 1 romagnoli simone capitano dell'empo di quota 1 e modulo venezia capitano del venezia quota 1 quindi sono stato molto basso sui sui giocatori delle no promosse perché possono essere titolari e come riempimento vanno molto bene di fatto qua si schiereranno mediamente tre difensori ho messo tre per nutnik è un difensore veramente tosto però comunque non sono stato prezzo base sono stato un po più alto sui campioni d'europa a cervi di lorenzo e una scommessina su di marco e su tumori del milan può essere sicuramente interessante in questo caso poi abbiamo speso parecchi soldi invece per quanto riguarda centrocampo attacco dove di fatto abbiamo preso abbiamo messo in busta tanti giocatori importanti ho messo chiesa dalla juventus ho copertina gli ho dato addirittura 82 crediti di preventivo marinoschi dell'atalanta quota 47 felipe anderso della razza quota 14 mandrago da torino quota 1 damsgard sandoria quota 3 bairami empoli quota 1 e aramu venezia quota 1 e per concludere frattesi del sassuolo quota 1 ho messo frattesi perché l'asta si farà il 9 agosto non si saprà che fine farà frattesi ma credo che anche con dionesi frattesi possa avere comunque buono spazio sicuramente aramu del venezia quota 1 giocatore che andrà via a poco credo quindi a 1 può essere un ottimo a fare così come bei rami dell'empoli quota 1 è interessante l'asta si fa il 9 agosto quindi qua bisogna fare un po di scommessi importanti e stare bassi col budget damsgard della sandoria non si saprà dove andrà magari a 9 agosto però 3 crediti si possono spendere per il semifinalista dell'europeo e protagonista anche nella semifinale col gol all'inghilterra mandrago dal torino un attimo regolarista quota 1 e poi ho messo il budget prevalentemente su felipe anderso della lazio messo 14 magari qualcuno se lo dimentica e marinoschi dell'atalanta quota 40 che di fatto il secondo slot più importante e poi tanti soldi per chiesa qua bisogna addirittura per quanto riguarda poi l'attacco ho messo lukaku inter quota 177 osimè napoli quota 122 zappata atlanta quota 3 scamacca sassuolo quota 1 mancuso empoli quota 1 e forte venezia quota 1 quindi anche qua discorso abbastanza analogo quello fatto per il centrocampo messo due attaccanti titolari delle non promosse forte e mancuso quota 1 entrambi che possono essere delle ottime sorprese a un basso prezzo scamacca del sassuolo può fare sicuramente bene anche sassuolo ma potrebbe andar via quindi come detto prima visto che la stessa si farà il 9 di agosto può essere importante magari che poi scamacca che vada via in una squadra medio piccola può fare molto molto bene da parte dell'atalanta il classico filler che mettiamo dentro per cercare appunto di avere una sorpresina se nessuno se lo ricorda magari qualcuno lo mette a 1 o 2 ne abbiamo messo 3 lo vai ad acquistare può essere un ottimo semi troppo alto per quanto riguarda il vostro attacco e poi ho puntato forte su osimè del napoli nonostante la coppa d'africa credo che osimè in nigerano possa fare molto bene con spalletti abbiamo visto i numeri che ha spalletti sugli attaccanti nei video scorsi che ho fatto settimana sul napoli di spalletti quindi osimè tanti soldi 122 vero ma li merita tutti e lukaku dell'inter quota 177 quindi di fatto quasi quasi la metà del budget va per lukaku ma anche con simone zaghi può dire sicuramente la sua questo consiglio volevo darvi per quanto riguarda l'asta busta chiusa se avete suggerimenti sono sempre a disposizione vi auguro una buona giornata vi aspetto presso sul canale del literano ciao a tutti i ragazzi